Oggi pomeriggio alle ore 15 presso Montecitorio in Assemblea Comune si riuniranno le Camere assieme ai delegati regionali, ai senatori a vita e ai senatori di diritto a vita. Inizia di fatto la prima votazione per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Molti sono gli interrogativi in riferimento proprio a chi succederà al Presidente uscente Mattarella. Alcuni dicono che potrebbe essere Mattarella stesso il quale però ha ribadito insistentemente la sua non disponibilità a riprendere l'incarico. Tanti sono i quesiti, quesiti in merito a chi diventerà il nuovo Presidente della Repubblica in Italia. I nomi sono diversi, qualcuno guarda con insistenza l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma le problematiche sono molte anche perché la debolezza dei partiti in Italia si è fatta particolarmente evidente nel corso del 2021. Un governo particolarmente forte, un governo in grado di imporre la sua linea di fronte a una maggioranza composta prevalentemente da tutti i partiti tranne fratelli di Italia. Ebbene nonostante questo la capacità, la forza e soprattutto l'importanza e il ruolo che hanno i partiti nel contesto parlamentare di fatto è venuto meno. Un governo estremamente forte come detto, una debolezza dei partiti che a un anno di distanza dalle elezioni legislative devono sostanzialmente ricostruirsi e soprattutto riuscire a portare di nuovo gli elettori alle urne che nelle recenti elezioni amministrative, quelle dell'ottobre 2021, hanno mostrato un allontanamento proprio dalle urne. si è presentato su un numero complessivo di elettori pare a 12 milioni, soltanto il 40% degli aventi diritto al voto, dimostrando come poi di fatto in questo momento i partiti, come detto, debbano ritrovare sostanzialmente i propri elettori. E le elezioni Presidente della Repubblica rappresentano sostanzialmente questa occasione. Osserveremo molto probabilmente delle contrapposizioni forti tra gli stessi partiti che fanno parte della medesima maggioranza. Ma dal punto di vista internazionale come sono viste le elezioni in Italia? Ebbene l'Italia è un paese strategicamente fondamentale inserito nel contesto del mar Mediterraneo tra Europa, Africa ed Asia, la porta, la porta dell'Europa, soprattutto in un momento storico che vede la Cina guardare con grandissimo interesse, proprio l'Europa in particolare. Le vie della seta principalmente e a questa situazione, a queste progettualità cinesi, gli Stati Uniti non sono assolutamente favorevoli. L'Italia come porta d'ingresso all'Europa di fatto potrebbe rappresentare un pericolo stesso proprio per la presenza e soprattutto per l'egemonia in ambito globale del ruolo degli Stati Uniti stessi. Gli Stati Uniti quindi di conseguenza guardano ai vertici della politica italiana, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri con grande attenzione e l'Atlantismo diventa l'elemento fondamentale proprio nella tutela dei loro interessi. Contemporaneamente però gli interessi dell'Unione Europea in particolare guardano invece con grande attenzione proprio all'Estremo Oriente, alla Repubblica Popolare Cinese ma anche alla Russia per quanto riguarda le risorse energetiche. Di fatto quindi l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica non è un qualche cosa che al resto del mondo di fatto sia indifferente, anzi tutt'altro, proprio per gli equilibri, negli equilibri in questo momento particolarmente difficile da poter interpretare visto le numerose alleanze e contrapposizione tra i tanti attori vecchi e nuovi che si stanno mostrando sullo scenario della politica internazionale. Per oggi questo è tutto.